Ciao ragazzi, se volete sapere come ho ottenuto questo colore, proseguite con la regoletta Eccoli, ho utilizzato questi spray coloranti e li ho procurati in un negozio in cui vendono prodotti per i parrucchieri ed ogni spray costa 4 euro Iniziamo, è molto facile utilizzarlo, bisogna scuotere bene il prodotto prima di applicarlo sui capelli Come potete vedere sto utilizzando un foglio bianco per evitare che lo spray mi arrivi in viso e negli occhi E il prossimo passo è quello di sforzare Ora vi dico le cose da fare prima di utilizzare lo spray Prima di tutto accertatevi che i vostri capelli sono ben idrattati e sigillati con qualsiasi olio naturale a scelta L'olio di cocco, l'olio di mandorle, l'olio di oliva, l'olio di avocado, qualsiasi olio che preferite Poi applicate lo spray fuori casa in modo da evitare di sporcare i muri o i mobili Cercate di non toccare i capelli se no vi ritroverete con le dita colorate come è successo a me Ed ultima cosa, prima di lavare via il colore fate il pre-poo Cioè sciacquare i capelli con un olio naturale a scelta Io utilizzo l'olio di cocco perché lo trovo veramente bene E poi proseguite con lo shampoo e poi il balsamo Basta un lavaggio per togliere tutto il colore E continua a spruzzare, spruzzare, spruzzare cercando di coprire tutto di blu E raccola mia carissimissimissimissimissimissima amica Reina che mi sta aiutando Quindi vi consiglio di avere qualcuno disposto ad aiutarvi in modo da distribuire bene il prodotto sui capelli Ed ora passo al viola Come ho detto prima, squattere bene il prodotto prima di applicarlo sui capelli E poi inizio a spruzzare Ciao No No ed ecco fatto mi piace un sacco il risultato finale e anche i colori che ho scelto, questo è un attimo modo per cambiare il look e provare qualcosa di nuovo e divertente. Siamo arrivati alla fine ragazzi, non dimenticatevi di iscrivervi e mettere mi piace sulla mia pagina facebook Cynthia Sissi, ciao un bacio ciao 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 io Buono in the world E mi Eji, Eta, ayu, 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 ayu Na 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 na